Pregiudizi, incertezze e contraddizioni caratterizzano oggi gli studi di genere. Per approfondire gli aspetti socioculturali e analizzare le nuove prospettive di questa disciplina si è svolto all'Università Sapienza di Roma un convegno con i massimi esperti del settore. Contano tanto, tant'è che abbiamo un gruppo e abbiamo l'apertura risultati del gruppo, nel senso che è molto facile fare un gruppo di questo e poi dire quelli rompiscatole fanno questo. Per noi invece è un elemento essenziale. Lunga è la strada per la formazione degli studi di genere in Italia. L'elevata età degli studiosi e la mancanza di un ricambio generazionale non permettono un vero e proprio sviluppo della disciplina. A che punto sono gli studi di genere alla sapienza? Sono in un punto direi cruciale, nel senso che abbiamo molto lavorato con le ricerche, con la discussione delle varie discipline, con anche il cambiamento delle discipline. Abbiamo bisogno però di fare passi ulteriori, soprattutto sul piano della visibilità, dei programmi, del coinvolgimento maggiore degli studenti. Direi quindi molto è stato fatto e ancora molto rimane da fare. Il 57% degli studenti della sapienza è costituito da donne. La maggior parte di loro ha dei curriculum eccellenti, che però alla fine non vengono riconosciuti. Sono così costretti ad andare all'estero per avere quell'approvazione che non hanno avuto in patria. Lei ha detto che molte ricercatrici, altamente qualificate, sono poi costrette ad andare all'estero. Perché? Perché in questo paese non ci sono posti, non ci sono concorsi, ci sono, anzi, quelli che avrebbero potuto esserci, perché molti colleghi stanno andando in pensione e molti ne andranno, già sappiamo che non verranno rimessi a concorso, già noi abbiamo delle precise indicazioni. Questo vuol dire che l'università in genere è destinata, l'università pubblica naturalmente, è destinata a una lenta morte e un ridimensionamento molto forte. Questo naturalmente colpisce particolarmente le giovani donne. Secondo i dati ufficiali, le donne italiane sono più istruite dei loro colleghi maschi, ma guadagnano di meno perché lavorano nei settori a basso salario oppure perché prediligono lavori part-time, per potersi dedicare alla cura dei figli e degli anziani. Poche politiche a favore delle donne, pochi aiuti, e quindi questa è la difficoltà maggiore, anche se le donne, come abbiamo visto, sono più istruite, hanno un livello di istruzione più alto, però poi è più difficile. Questa situazione comporta dei costi economici e sociali. Donne altamente qualificate, che però poi non lavorano, per badare alla famiglia, rappresentano uno spreco di investimenti. Quali sono le politiche pubbliche necessarie per raggiungere la parità? Ce ne sono diverse e soprattutto si deve stare attenti a non c'è una misura unica, ma si deve guardare al coordinamento, all'insieme, all'effetto dell'insieme delle politiche. E allora si può agire, per esempio in materia di legislazione, per esempio il congetto di paternità, cercare di incentivare la condivisione del lavoro domestico e di cura, anche da parte dei maschi, attraverso una legislazione che incentivi, o diremmo forse anche obblighi, i maschi a poter prendere anche loro una parte del congedo. E quindi compito dello Stato, viare a questo divario per permettere alle tante donne italiane di rendersi competitive nel mercato del lavoro.